Rude, maleducato, caffone... Quante volte ti è capitato che hai chiesto una semplice informazione e ti hanno risposto in questa maniera? Oppure al lavoro, in famiglia, eccetera, dal nulla qualcuno si comporta maleducatamente, ti risponde male o veramente in maniera incontrollabile? E quante volte a te succede che qualcuno ti chiede qualcosa e senza volerlo gli rispondi veramente male, con poca gentilezza? Beh, partiamo da una piccola verità che ci dimentichiamo. Il mondo non gira sempre intorno a noi o intorno agli altri, quindi molto spesso se qualcuno è maleducato o poco gentile, questo non ha nulla a che fare con noi. Come alla stessa maniera, se noi oggi abbiamo qualcosa o se qualcosa ci ha fatto venire in mente ricordi passati, traumi passati, non è necessariamente colpa della persona di fronte, che molto spesso è un estraneo, ma è qualcosa dentro di noi. Quindi prima di innescare delle discussioni, delle reazioni a catena, semplicemente fermati un attimo. Abbiamo due orecchie, quindi fai entrare da una parte la maleducazione degli altri, fallo uscire dall'altra, ma soprattutto rifletti che quelle persone magari hanno qualcosa dentro da risolvere. E se invece sei tu quello che ha risposto, si è comportato in questa maniera, fermati, perché qualcosa ti ha fatto scattare, qualcosa dentro di te in qualche modo non è in equilibrio. Quindi fai un bel respiro, fermati, ragiona, scrivilo qua sotto e rifletti. Non tutto dipende dagli altri o da noi, ma molto spesso ci portiamo dietro dolori e traumi di cui non sappiamo nulla.